Scriviti al nostro canale E' un genio, è il primo italiano non politico da più di vent'anni a parlare all'ONU Lei dirà anche Conte, non è che sei un grande politico Io mi dissocio da qualsiasi cosa Le dica però pensi che è emozione Ma scusi, ieri mattina all'ONU, quindi era ieri sera da noi, adesso dove si trova? Adesso è già tornato a Pavia perché un lombardo deve lavorare, è collegato con noi Giampiero Lotito Lotito buonasera Buonasera, buonasera Un lombardo nato in Lucane Un lombardo, un lombardo a Lucane Lotito ma ci racconti, è proprio vero Lei ieri ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU Quella col marmo di Carrara alle spalle Nell'orgoglio toscano di ci riesce fuori Era una sala, era un'altra sala Perché non quella col marmo che siamo abituati a vedere Ma altrettanto importante perché era la camera economica dell'ONU dove c'è stata la celebrazione della giornata della non violenza nel giorno della nascita di Gandhi E io ho avuto l'onore e la possibilità incredibile di poter raccontare per sei minuti qual è la nostra visione qui in Facility Live e la mia come tecnologo del rapporto tra tecnologia e pace Piccola premessa, lei è un imprenditore, la sua azienda è una start-up, non è una grande azienda No, no, siamo cento persone Non piccola, però è nata con linea di diventare un'azienda globale del software Ci stiamo piano piano riuscendo Bill Gates se la sta facendo sotto perché lei lo tito sta arrivando Senta, che cosa ha detto? Quindi lei ha parlato di pace e tecnologie Noi ne approfittiamo per ricordare che domenica c'è la Perugia Sisi, la grande marciona della pace Analogica, analogica Lei che nel mondo è digitale è start-upper con i capelli bianchi Cosa ha detto in questi minuti? Beh, intanto ho cercato di far capire che dipende molto dall'uomo quello che la tecnologia fa Sono partito anche da esempi storici importanti come la nascita dell'atomo La stessa scissione dell'atomo è nata con i denti di pace E poi ha causato la più grande distruzione di massa che ricordiamo nella storia Così come le armi sono nate per difendere gli uomini dalle bestie e dalle belve E poi sono diventate strumenti di morte Quindi c'è sempre l'uomo dietro alle scelte che si fanno Oggi viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ha un impatto quotidiano costante In tutto quello che facciamo E se noi pensiamo che la tecnologia debba guidare l'uomo Andremo verso un mondo dominato dalle macchine Che secondo me non sarà granché bello da vivere Allora noi cerchiamo di costruire qui a Pavia nel nostro piccolo Ma vedo che il messaggio può essere arrivato nel mondo Noi l'abbiamo recepito E se ci arriva Caterpill Che serve all'uomo Il contrario Che non sia lo smartphone a guidare il cittadino Ma il cittadino che utilizza lo smartphone È un'impresa disperata però c'è speranza L'ho titolo però Una questione di processo Com'è che uno si candida Interessato Vorrebbe anche lei Non vorrei io Ma forse qualche ascoltatore Dice anche io vorrei parlare Vorrei parlare Come ci si arriva C'è bisogno di una spintarella Si compina un modulo online Come funziona? No beh Io sono stato molte volte ospite di media globali La settimana scorsa ero ospite del telegiornale della BBC TNT Il telegiornale più visto al mondo Tra le altre cose Mi hanno fatto un'intervista Sulla situazione italiana E sul DEF Lei era preparato Da prima ero all'azienda E all'azienda Lei era preparato sul DEF Perché è complicatissima questa storia qui Beh ho fatto una cosa Che secondo me Ci dimentichiamo di fare come italiani O comunque difeso il mio paese Indipendentemente da quale posto Siamo grati Lottito Ha convinto un paio di investitori Lottito L'altra cosa che colpisce Lei ha parlato 25-26 ore fa Adesso è di nuovo a Pavia E anche per poterne usufruire E far cadere il discorso stasera Un aperitivo dicendo Ma sai Ieri ero all'ONU All'Assemblea Generale E con le ragazze si fa una figura spettacolare E' un po' difficile Devo dire dirlo Perché Pensi che Per un mese circa Io lo sapevo da più di un mese Non l'ho detto a nessuno L'abbiamo saputo in pochissime Perché non puoi dire Sto per andare a fare un discorso all'ONU Poi in capi Perché non ci fai la figura spettacolare Lo metto su Facebook Lo dice a tutti Non i parenti in Lucania E poi Non va più Adesso però lo puoi pubblicare Cioè è bellissimo Noi siamo fieri di lei Lottito è Abbiamo sempre creduto in lei Anche se non la conoscevamo Grazie Devo dire che è stata un'emozione Incredibile Anche perché Uno di quegli eventi Che ti mette un prima Un dopo nella vita Devo dire che da ieri Mi sembra di aver fatto Una serie di cose buone Nella vita più di prima Ma scusi Complicazione della vita Lei ha finito di parlare Immaginiamo a mezzogiorno Ora di New York E' andato subito In aeroporto Ha preso il volo E a che ora eri in Italia Stamattina Ero Beh sono arrivato Alle 11 Sono venuto a Pavia Mi sono fatto una doccia Sono andato A un evento in Bocconi Per i ragazzi Dell'università A cui tenevo partecipare Sono tornato a Pavia E sono con voi Alla faccia del jet lag Ma che miseria Ma lei che ce ne faccio Ma lei può stare sveglio Per sei giorni adesso almeno No stasera Devo guardare la mia inter Perché poi Ho anche questo difetto Cioè anche Parla All'ONU E coltiva anche il calcio C'è gente contenta Dall'altra parte del vetro Qui in Corso Sempione Di questa notizia Allora lo lasciamo riposare Forse è anche ora Di che si rilassi sul divano Assolutamente L'Otito Grazie Continuo ad ascoltarmi Grazie Tenga la radio accesa Grazie Gian Piero Lutito Ha parlato all'ONU E a Caterpillar Che sono un po' due assemblee generali Di diverso livello Più apprezzata Caterpillar Una notizia bella Proprio perché Uno dovrebbe provare invidia Per una storia del genere Invece è stato così simpatico Che provi gioia E basta Io un po' di invidia Ce l'ho insomma Perché lui ha parlato all'ONU E io parlo Ma lei è così Ciri Che dobbiamo fare Caterpillar